salve e benvenuti a questo momento di approfondimento il mio classico decalogo quindi una sintesi per punti 10 punti che riepilogano quello che è un tema di interesse sia dei studio del diritto amministrativo sia per la preparazione ai concorsi sia per cultura generale che è il ruolo le caratteristiche organizzative e anche gli aspetti strutturali dell'Unione Europea ormai la maggior parte della produzione normativa nazionale è influenzata direttamente o indirettamente dal quadro comunitario un'Europa che i cittadini italiani alternativamente amano, siamo stati fra i paesi con il più alto tasso di percentuale di europeismo a momenti più bassi in questo scenario però un sistema istituzionale particolare, di diritto internazionale particolare che adesso andiamo rapidamente in una logica di decalogo sintetico ad analizzare intanto partiamo come il primo punto da un po' di storia molto molto leggera si parte nel 1950 dopo la seconda guerra mondiale la seconda guerra figlia di odi nazionalistici fra i paesi dell'Europa Germania e Francia in primo luogo ma poi ovviamente anche l'Italia e tutti gli altri paesi coinvolti allora nasce l'idea di iniziare un percorso che possa evitare la terza guerra mondiale e possa condurre a forme di rafforzamento quando è che i paesi possono fare pace? quando si accordano sui temi dei dissidi precedenti carbone ed acciaio era stato il dissidio alla base della prima guerra mondiale in parte anche della seconda l'economia la predominanza economica di un paese sull'altro della seconda guerra mondiale la grande crisi insomma è storia nota quindi nel 1950 l'allora ministro degli eteri Robert Schumann fa un discorso nel quale lancia l'idea di un accordo un accordo settoriale in quel momento legato soltanto al carbone ed acciaio rivolto alla Germania a cui poi hanno aderito altri paesi il Benelux e l'Italia e nasce il primo nucleo fondamentale di quella che poi diventerà l'Unione Europea nel 1957 si estende all'energia atomica e quindi l'uso dell'atomica e dell'energia elettrica prodotta dall'atomica e ha il primo più ampio respiro cioè riguarda non soltanto un settore economico ma l'intero complesso economico ovviamente tutto ruota ancora intorno a profili economici non si parla di diritti sociali non si parla di cittadinanza europea non si parla di integrazione non si parla di altro che di mettere insieme le energie e le risorse per creare un sistema sinergico la prima grande svolta si ha nel 68 con l'Unione Doganale l'Europa, la comunità economica europea diventa un sistema unitario con un confine esterno un confine per il momento soltanto di dazzi per cui un prodotto acquistato da un altro paese europeo dagli Stati Uniti, dalla Russia piuttosto che da un altro paese subisce un dazio doganale all'ingresso in uno qualsiasi dei paesi della loro comunità economica e dopo non può essere più tassato internamente circola liberamente all'interno della comunità economica europea questo percorso, questo processo è stato l'inizio di una escalation per cui l'Unione Doganale ha portato le risorse finanziarie per creare un sistema stabile ancora oggi la maggior parte del bilancio dell'Unione si fonda sui dazzi doganali ai confini europei e crea quell'Unione interna quella libera circolazione delle merci senza ulteriore tassazione che è la caratteristica essenziale del sistema l'evoluzione porta a far aderire proprio grazie a questi favori fiscali, doganali altri stati membri fra il 72 e metà degli anni 90 si sviluppano anche nuovi trattati quindi si abbandonano i vecchi trattati istitutivi della comunità e con l'atto unico europeo prima e il trattato di Maastricht dopo si dà vita a quello che sarà il percorso che porta alla fine del millennio alla nascita dell'euro altra rafforzamento dell'Unione e anche ai primi fallimenti dal 50 al 99 è un'evoluzione tutta positiva tutti i successi più o meno grandi di creazione dell'Unione che stava ingrandendosi anche numericamente l'euro su la maggior parte dei paesi dell'Unione nel 2004-2005 si tenta il salto si tenta il passaggio con l'approvazione della Costituzione Europea la creazione di un organismo giuridico molto più forte della comunità economica europea molto più forte della Unione questo è bocciato dai primi due paesi con il referendum confermativo e quindi blocca questo processo di ulteriore rafforzamento è il primo inciampo dell'Europa inciampo a cui poi segue la crisi economica del 2008 che quindi porterà a un trend negativo in molti stati rispetto all'evoluzione dell'Unione Europea che comunque il primo luglio 2013 raggiunge la sua massima estensione con 28 stati che aderiscono all'Unione che poi dal primo gennaio 2020 dopo la Brexit del 2016 diventano appunto 27 che ancora oggi caratterizzano l'Unione Europea quindi non più a 12 stelle ma ormai a 27 stelle veniamo allora come è fatta questa organizzazione internazionale sovranazionale non federale in senso tecnico atipica non è uno Stato federale ma non è nemmeno una mera convenzione internazionale è fatta da organi sappiamo che il diritto amministrativo diritto internazionale organo è il soggetto che è capace di manifestare la volontà dell'ente a cui appartiene in questo caso dell'Unione Europea l'Unione Europea ha sette organi e altri organismi cioè strutture organizzative di supporto all'attività degli organi il Parlamento Europeo il Consiglio Europeo il Consiglio dei Ministri da non confondere con il Consiglio Europeo la Commissione Europea la Corte di Giustizia la Banca Centrale e la Corte dei Conti vediamo velocemente ciascuno di questi organi il Parlamento Europeo l'Unione Europea è stata caratterizzata da anni proprio in virtù dell'essere un organismo di diritto internazionale e gli accordi internazionali trattati internazionali gli organismi internazionali vedono una centralità dei governi quindi delle maggioranze vincenti alle elezioni quindi degli organi esecutivi è stata caratterizzata per molto tempo da una predominanza dell'organo esecutivo rispetto al Parlamento tant'è che si parlava della scarsa democraticità del sistema dell'Unione questo deficit democratico è stato in gran parte superato con un rafforzamento del ruolo e delle funzioni del Parlamento Europeo oggi rispetto a 20-25 anni fa sicuramente il Parlamento ha acquisito nuove funzioni un Parlamento che come tutti gli organi collegiali rappresentativi molto simile a quello nazionale al Consiglio regionale al Consiglio comunale è rappresentativo dell'intera collettività maggioranza ed opposizione di tutti i cittadini nel nostro sistema è eletto con un sistema elettorale proporzionale ciascun Paese adotta il sistema elettorale che ritiene più adeguato nel nostro caso abbiamo uno sbarramento al 5% per la rappresentatività al Parlamento Europeo i cui membri sono incompatibili con il ruolo di parlamentare nazionale perché una volta eletti i parlamentari europei rappresentano l'Europa e fanno gli interessi dell'Europa non più gli interessi del Paese di origine ecco perché l'incompatibilità con il Parlamento nazionale è un Parlamento che è un organismo complesso come il nostro fatto da un regolamento interno analogo al regolamento della Camera e del Senato ovviamente a differenza del nostro sistema parlamentare non è bicamerale ha una sola Camera anche se si riunisce in legislature sessioni tornate sedute che sono diciamo meccanismi di riunione complessi e articolati e organizzati anche in commissioni analoghe alle commissioni parlamentari anche le strutture organizzative sono quelle tipiche degli organi collegiali c'è un presidente c'è un ufficio di presidenza c'è una conferenza dei presidenti fra l'altro in questo momento il presidente è italiano dei vicepresidenti 14 vicepresidenti e vari presidenti di commissione e quant'altro un'organizzazione molto complessa però del tutto analoga e simile a quella del Parlamento nazionale che funzioni ha il Parlamento europeo la prima funzione è quella tipica dei parlamenti la funzione legislativa quindi adottare atti giuridici normativi non lo fa da solo ma lo fa insieme al Consiglio questa è una peculiarità del Parlamento europeo anche in Italia la funzione legislativa non è esclusiva del Parlamento sappiamo che abbiamo i decreti legge del governo e i decreti legislativi del governo ma in un sistema in cui o è l'uno o è l'altro quindi il Parlamento approva le leggi il governo fa i decreti legge che sono convertiti oppure adotta decreti legislativi sulla base di una delega nel caso del Parlamento europeo invece la funzione legislativa prevede una collaborazione una compartecipazione alla funzione da parte del Parlamento e del Consiglio e varia non è unitaria varia a seconda delle materie varia a seconda degli argomenti varia a seconda anche di disposizioni speciali ecco il sistema comunitario è un sistema che eredita tradizioni diverse tradizioni di common law tradizioni di civil law e tradizioni anche organizzative diverse è molto pragmatico in certe procedure noi siamo abituati più a formalismi ecco il sistema comunitario ha questa caratteristica per cui anche la funzione si adatta all'argomento alla materia e anche al momento storico politico devo dire in alcuni casi analogamente al Parlamento nazionale e agli organi collegiali pensate al Consiglio regionale pensate al Consiglio comunale esercita la funzione di bilancio quindi approva gli strumenti finanziari principali anche in questo caso insieme al Consiglio inoltre la funzione classica di controllo politico attenzione di controllo e non di indirizzo questo è un aspetto particolare la funzione degli organi parlamentari nazionali molto spesso in Italia sicuramente è di indirizzo e controllo l'indirizzo in sede comunitaria è svolta da un altro organo che è la Commissione quindi abbiamo un sistema leggermente diverso da questo punto di vista in più esprime pareri pareri nei confronti degli altri organi ci sono poi alcuni aspetti particolari che ora diciamo non sono adatti per il decalogo quindi vado più velocemente il Consiglio europeo il Consiglio europeo nasce da una prassi una prassi internazionale di accordo fra i capi di Stato e i capi di Governo che si riunivano prima informalmente poi formalmente per prendere le decisioni fondamentali che hanno portato agli accordi del 51 agli accordi del 57 all'Unione doganale del 68 questo Consiglio europeo appunto fatto dai capi di Stato e di Governo dei Paesi membri si è poi evoluto in un organo riconosciuto dagli ultimi trattati sull'Unione e sul funzionamento quindi è un vero e proprio organo che ha un potere di indirizzo politico generale dell'Unione a differenza della Commissione che è un potere di indirizzo puntuale quindi è sulle grandi decisioni in particolare sulla revisione dei trattati diciamo sulle scelte strategiche dell'Unione tant'è che non adotta provvedimenti atti a carattere giuridico non esercita la funzione legislativa ma adotta raccomandazioni conclusioni decisioni e normalmente decide per consenso all'unanimità tranne alcuni casi che sono stati introdotti di decisione a maggioranza qualificata diverso dal Consiglio europeo è il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea organo particolare che potremo assimilare al Governo nazionale è un organo formato da membri degli Stati membri quindi il Consiglio è formato da un rappresentante per ciascuno dei 27 Stati membri in base alla materia quindi è un organo variabile se si decide di affari esteri ci saranno i ministri degli esteri se si decide di economia ci saranno i ministri dell'economia tant'è che si parla del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea per materia settoriale e questo Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea che è un organo permanente dell'Unione appunto prende le decisioni insieme al Parlamento esercita la funzione legislativa e opera attraverso un meccanismo un po' particolare che conosciamo anche giornalisticamente che è quello del semestre europeo cioè la presidenza di questo organo è svolta ogni sei mesi da uno Stato membro ciascuno dei 27 Stati membri ma individuati a gruppi di tre in modo tale che si alternino facendo in modo che si alterni uno Stato grande uno Stato medio uno Stato piccolo uno Stato dell'Est uno Stato del Nord in modo tale da non avere una continuità eccessiva di predominanza di tra virgolette interessi localizzati quindi vedete gruppi di tre Stati che per 18 mesi ne hanno la presidenza a turni di sei mesi ciascuno ovviamente come gli altri organi il Parlamento e il Consiglio Europeo ha una struttura organizzativa alla base fatta di personale amministrativo quindi stiamo parlando degli organi politici ma dietro c'è anche una struttura organizzativa dell'Unione Europea fatta di organi tecnici di regola con al vertice un segretariato generale anche il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea che originariamente si esprimeva all'unanimità qual è il classico sistema di decisione a livello internazionale in realtà ha con gli ultimi trattati ha introdotto meccanismi di votazione a maggioranza qualificata pensate con 12 stati puoi votare anche all'unanimità con 27 stati soprattutto quando c'era l'Inghilterra che difficilmente si riusciva a convincere su molte cose si può votare all'unanimità allora è stata introdotta una maggioranza qualificata con un criterio della cosiddetta doppia maggioranza cioè serve un numero minimo di stati e un numero minimo di popolazione rappresentata per evitare che tanti stati piccolini potessero prendere decisioni o che pochi stati grandi potessero prendere decisioni con una minoranza di blocco cioè se si raggiunge un certo numero di popolazione o di stati si riesce a bloccare ogni decisione diciamo significativa del consiglio su alcune materie rimane l'unanimità politica estera sicurezza comune e politica fiscale la commissione europea abbiamo detto è l'organo esecutivo quello che possiamo dire il governo nella parte esecutiva formata non da rappresentanti del governo ma da personalità esperte in settore anche se molto spesso vengono dall'esperienza politica non necessariamente dall'esperienza tecnica ma è un organo che opera in piena indipendenza il presidente della commissione a dirvi del rafforzamento del ruolo del parlamento è eletto dal parlamento dopodiché vengono individuati i membri della commissione attraverso un meccanismo complesso di individuazione ma che poi operano in modo indipendente tant'è che non possono essere né rimossi dal governo nazionale né rimossi dal consiglio stesso quindi operano per i cinque anni della durata della legislatura in modo indipendente e hanno la commissione ha una funzione fondamentale quella di dare attuazione alle iniziative alle attività ai provvedimenti del parlamento e del consiglio europeo ma anche una funzione di iniziativa l'iniziativa delle leggi è solo della commissione questo è singolare cioè è come se dicessimo che in parlamento il parlamentare non può presentare un disegno di legge per farlo approvare dal parlamento ecco soltanto la commissione ha il potere di iniziativa ma non ha il potere decisionale questo per dirvi che il sistema europeo è un sistema fortemente incentrato sui pesi e contrappesi tipico degli ordinamenti nord europei ma anche della nostra costituzione quindi certi organi hanno dei poteri rilevanti ma sono bilanciati dai poteri di altri organi tant'è che ad esempio se il parlamento vuole approvare una direttiva o un regolamento su una determinata materia non potendo avviare l'iniziativa perché è della commissione può chiedere alla commissione di avviare l'iniziativa si chiama l'iniziativa dell'iniziativa cioè la pressione sulla commissione per adottare provvedimenti su una determinata materia a seguito della quale se la commissione non interviene il parlamento può approvare una mozione di censura che è l'equivalente della nostra mozione di sfiducia ecco i membri dell'attuale commissione compreso il rappresentante italiano all'onorevole Paolo Gentiloni il sistema comunitario ha un sistema anche di giustizia la corte di giustizia è quella che noi potremmo dire facendo un paragone con l'ordinamento interno l'equivalente della nostra corte costituzionale ma anche della corte di cassazione ma anche del consiglio di stato quantomeno delle alte giurisdizioni la corte di giustizia non è soltanto la corte di giustizia in senso tecnico perché fa parte del sistema corte di giustizia anche il tribunale il tribunale che è l'organo di primo grado del sistema giudiziario della corte di giustizia rispetto alla quale le sentenze del tribunale possono essere impugnate alla corte solo per profili di legittimità ecco il carattere di cassazione in realtà la corte di giustizia interviene anche in via pregiudiziale quindi interviene anche richiamata dai giudici nazionali e in questo senso è molto simile alla nostra corte costituzionale addirittura anche la corte costituzionale può attivare la procedura pregiudiziale rarissima nei confronti della corte di giustizia proprio a dire questo ruolo di super partes e supremo di gestione nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati la cosa particolare ricordiamoci è interessante leggere le sentenze della corte di giustizia sia le sentenze sia le conclusioni degli avvocati generali gli avvocati generali sono una figura che non conosciamo nell'ordinamento italiano che viene dall'ordinamento francese e che sono deputati a trarre le conclusioni da un procedimento avviato da uno stato da un cittadino su cui si deve pronunciare la corte di giustizia quale conclusione finale a tutela dell'ordinamento europeo quindi le relazioni degli avvocati generali sono degli ottimi strumenti di ripasso e di studio analogamente alle sentenze della corte di giustizia che molto spesso diciamo seguono le indicazioni degli avvocati generali a volte magari si discostano leggermente o significativamente dicevo però la corte di giustizia opera in un sistema che è ibrido è un sistema di civil law un sistema che applica regolamenti direttive e decisioni ma è anche un sistema di common law che applica diritto non scritto che è diritto dell'unione europea quindi un sistema che è un mix proprio come un mix il sistema comunitario banca centrale europea la BCE tanto amata odiata anche qui abbiamo esponenti italiani di spicco in rappresentanza fino a pochi poco tempo fa la BCE è un soggetto che è organo dell'unione europea ma allo stesso tempo ha una personalità giuridica distinta dall'unione perché opera in totale indipendenza e ha un suo sottosistema una sua costellazione che è fatta dalle banche centrali nazionali che costituiscono il sistema europeo delle banche centrali che ha come scopo quello del mantenimento e della stabilità dei prezzi in un regime di mercato concorrenziale il principio è l'unione è fondata sul principio di libertà di impresa e di concorrenzialità all'interno della quale lo scopo è quello di garantire la stabilità dei prezzi che ovviamente per le teorie macroeconomiche è influenzato in maniera significativa fra le altre cose dalla quantità di moneta in circolazione quindi la banca centrale è l'unico soggetto che può autorizzare le emissioni di banconote che poi vengono stampate dalle banche centrali corte dei conti la conosciamo l'abbiamo anche noi nel nostro sistema costituzionale anche da noi è un organismo diciamo costituzionale non è un organo costituzionale ma è un organo di rilevo costituzionale ed ha il compito di garantire il controllo sulla gestione finanziaria ha anche una funzione di assistenza e supporto anche nel nostro ordinamento è consulente del governo allo stesso tempo ha funzioni di vigilanza e controllo nel nostro sistema anche giurisdizionali nel sistema comunitario non ha funzioni giurisdizionali ed è altro strumento appunto che interviene soprattutto nella parte di gestione finanziaria qui c'è una interessante rapida sintesi che ho preso dal web non è frutto farina del mio sacco però è utile per ripassare diciamo sintetizzare l'attuale situazione diciamo ante brexit perché poi con la brexit ovviamente in fase di rinnovo cambieranno alcuni numeri ultima profilo del decalogo l'unione europea ovviamente c'è tutto il tema delle fonti del diritto ma sarà di una seconda parte del decalogo qui mi voglio soffermare su quelli che sono i capisaldi dell'unione europea la nascita del mercato interno l'unione europea nasce per creare un mercato interno carbone acciaio atomica e comunità economica poi si apre con le famose per chi le conosce quattro libertà la libera circolazione delle persone la libera circolazione dei servizi la libera circolazione dei capitali la libera circolazione delle merci per approfondimenti quindi chi fosse interessato consiglio il sito ufficiale dell'unione europea il sito Eurlex dove si trova tutta la produzione normativa ed approfondimenti anche in linguaggio semplice sulle istituzioni gli organismi le politiche e le note tematiche del Parlamento europeo che forse è l'istituzione più attiva negli approfondimenti negli studi chiudo sulla libera circolazione che significa fondamentalmente che un lavoratore se vuole rispondere a un annuncio di lavoro un lavoratore francese vuole venire a lavorare in Italia può venire senza aver necessità di autorizzazioni vincoli permessi e può trasferirsi liberamente prendendo la residenza e portando con sé la famiglia nell'esercizio della libera circolazione delle persone ci sono alcuni vincoli diciamo legati alla libertà di circolazione quando l'attività lavorativa è connessa all'esercizio di funzioni pubbliche ad esempio pubblico impiego ci possono essere limiti alla discriminazione in funzione della nazionalità se vado a lavorare per i servizi segreti italiani il bando di concorso che non c'è l'assunzione può discriminare in base alla nazionalità se invece devo essere assunto a fare funzioni amministrative all'Inps no non posso essere discriminato quindi dietro la libera circolazione delle persone c'è il divieto di discriminazione in base alla nazionalità per cui oggi qualunque cittadino comunitario dei 27 paesi non può essere discriminato nello stipendio nelle assunzioni nel tipo di contratto nelle modalità operative né dalla disciplina civilistica né dalla disciplina pubblicistica stessa cosa vale per i servizi l'impresa che realizza servizi web in Germania ha diritto a prestare questi servizi sul territorio italiano alle stesse condizioni di un italiano e viceversa così come la banca ha diritto di portare i capitali da una parte all'altra all'interno dei confini comunitari allo stesso modo così come le merci una volta tassate all'ingresso di qualunque frontiera pagando il dazio doganale perché entrano in Italia o entrano in Francia il dazio finisce all'Unione Europea dopodiché non è più tassato nell'ambito della circolazione all'interno dei paesi dell'Unione concludo vi ringrazio per l'attenzione ci sarà un seguito più avanti non so quando sulle fonti del diritto comunitario che è l'altro capitolo diciamo dell'interazione fra l'Unione Europea e il nostro ordinamento nazionale vi saluto e ci vediamo alla prossima a presto grazie a tutti